Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi voglio ritornare su un argomento molto particolare e che sta attraendo l'attenzione dei media mondiali. In realtà i media mondiali sono tutti giostrati per fare battaglia al bitcoin quindi è normale che il tema di adesso è bitcoin bolla, bolla ponzi ponzi bolla. E' un po' questo qui il mantra che sta impervertendo adesso tra i potenti perché è stato sferrato un attacco affinché la gente già insicura del bitcoin perché non l'ha capito bene lo venda facendo scoppiare quella che secondo loro è una bolla. Questo non sta succedendo perché ci sono dei motivi che lo voglio... e questo è un po' anche la motivazione che mi spinge a fare questo video. Allora, anche gente che da molto tempo si dà da fare con le criptovalute, compagnia bella, segue l'argomento, magari qualche d'uno da fuori però comunque ci segue e ci legge non ha capito bene come funziona. Ed è per questo io che sul nostro gruppo Bitcoin Italia ogni tanto pubblico dei post che non hanno niente a che fare col bitcoin sono dei giochini di intelligenza, dei rebus, degli indominelli diciamo, indominelli matematici o di logica perché per me è importante anche riuscire a capire la collettività a che livello è, in che modo riesce a percepire le realtà, quali sono i ragionamenti logici che le masse riescono a fare. Io, per me, essendo autistico, con un qui sopra i 150 tutti mi diranno, e Andrea perché lo devi dire sempre così? Io ci tengo a precisarlo, perché io non ho la percezione di quello che la gente riesce a capire. Io devo avere continuamente dei feedback perché sennò mi sembra di stare sempre a parlare con una massa di deficienti. Quindi faccio dei test, delle piccole verifiche che sottopongo alle masse. Io ho un'infinità di gruppi Facebook, pagine e sono i più grossi che ci sono su Facebook perché per me fare un gruppo e fargli raggiungere migliaia e migliaia, decine di migliaia di utenti è una cazzata, cioè tutte quelle cose lì che per voi potrebbero essere complicate, per una persona che ha un cui sopra i 150 sono cazzatine che ti impiegano giusto un pochettino del tuo tempo. Allora, il Bitcoin, perché non è in bolla e essenzialmente parliamo anche di che cos'è la bolla? La bolla è un qualche cosa che per definizione non troverà mai d'accordo tutti quanti. È un qualche cosa che si sa che è temporale, però esattamente che cosa sia la bolla per definizione e quali sono i parametri che la definiscono è un qualche cosa che non potrà mai mettere d'accordo tutti quanti. L'unica cosa che su questo aspetto può mettere d'accordo tutti quanti è come avviene lo scoppio della bolla. Lo scoppio della bolla avviene quando tutti vendono, tutti si liberano di un determinato titolo, di un determinato bene, di una determinata categoria di elementi. Quando tutti vendono vuol dire che il gesto di vendere consiste nel non attribuire più valore a quel determinato elemento. Visto che nessun elemento ha un valore antrinseco, è il valore che gli assegna la società, quando tutti se ne liberano, quella cosa lì perde di valore. Se questo avviene per un fenomeno collettivo in un determinato lasso di tempo ristretto, provoca lo scoppio della bolla. Su questo siamo tutti d'accordo. Allora, anche oggi leggevo sul nostro gruppo qualcuno, ma non si riesce a capire, ma allora che cos'è? Tutti lì dentro è una cosa dove la gallina dà le uova d'oro, dove tutti ce ne traggono un vantaggio. Non è possibile. E' ovvio, molta gente è distaccata dalla realtà, quindi non riesce a capire quello che sta succedendo. E' un po' come Galileo Galilei. Capite anche voi, no? Uno è sulla Terra, ecco il Sole gira attorno alla Terra, perché lo vedi e lì sorge a destra, tramonta ad ovest, gira, gira. E' ovvio, è il Sole che gira intorno. Dopo arriva Galileo Galilei e dice, ma guardate che non è così, è la Terra che gira intorno al Sole. Cosa succede? Che in un mondo dollaro centrico la gente fa esattamente il ragionamento di quello che vede che è il Sole che gira attorno alla Terra. Non riesce a capire perché il suo mondo è tutto, essendo eurocentrico, è tutto valutato, rapportato sul dollaro, è come quello che viaggia sull'astronave e vede i pianeti che si spostano. Cioè, è un qualche cosa di percezione dovuta al fatto che molta gente, praticamente quasi tutta la collettività, ha sfasato un po' i suoi parametri. Tornando al ragionamento di prima, che noi non sappiamo qual è la definizione di bolla che metta d'accordo tutti perché non esiste, però sappiamo come si configura la bolla, ovvero la vendita in massa di un determinato bene ed oggetto ne prova il suo depreciamento. Cosa sta succedendo adesso? La gente che da secoli, gli oppressi parliamo, la gente che non ne può più di essere torlupinata, gente vessata dallo Stato, le tasse, la collettività, sta traslando dal dollaro al bitcoin. Perché il bitcoin rappresenta la decentralizzazione, è quello il suo punto di forza, la non possibilità di essere sottoposto al governance, la sua indipendenza e la sua neutralità. Questo è un elemento che ha dato importanza al bitcoin, perché già prima del bitcoin avevamo delle valute virtuali, abbiamo avuto dei token che potevano essere utilizzati per gli acquisti, abbiamo avuto tanti esperimenti, ma la scintilla che ha fatto esplodere il fenomeno del bitcoin è stata la sua invulnerabilità e la sua indipendenza. Il fatto che il bitcoin non abbia una sua governance gli ha focalizzato addosso i riflettori di mezzo mondo e lo ha reso una moneta credibile. perché non essendoci dentro la finanza, non essendoci dentro chi lo stampa alla cazzo come le rotative che stampano dollari euro, è diventato un simbolo di affidabilità. Il fatto che non vi è una entità sovrastante che lo possa aggiustare e lo possa modificare, con buona pace dei nostri amici trader che si sono fatti circuire la testa da una miriade di stronzate per decenni, con buona pace dei banchieri, il bitcoin rappresenta serietà e solidità per il fatto che non ha nessuno che lo possa aggiustare dall'esterno. Ecco, questo è un po' quello che è il bitcoin. Cosa sta succedendo per effetto della teoria della relatività, per effetto che è la terra che gira intorno al sole e non il sole che gira intorno al terra, benché voi trader, maghi della finanza, banchieri e compagnia bella continuate a vedere il sole che gira perché tramonta, sorge a destra, tramonta a ovest e sempre lì che gira. Allora, cosa sta succedendo? Il bitcoin cresce, sale, è simbolo di affidabilità, la gente letteralmente cosa sta facendo? Come ho fatto io? Io avevo degli euro, avevo i miei risparmi, avevo dell'oro soprattutto, ho venduto e ho comprato bitcoin. Ma oramai siamo a un punto che la moneta, il dollaro, non è più credibile. Quello è, secondo anche fonti, parliamo di premi Nobel così, fonti molto attendibili, è una super bolla. Succede che la gente se ne libera, se lo toglie dei coglioni. Cioè, si arrivate a un punto che c'è quello, come può capitare anche a me, è che magari la nonna ti ha lasciato dei beni forgando tre cassetti delle verità, trovi magari dei dollari. Avvi lì, porca puttana, che cazzo ci fa carta straccia? No! No! Prendi dollari, corri subito, te ne liberi. No, via, via, via! Poi del cazzo, via! E compri bitcoin. E questo è un fenomeno di massa, tutti sono lì che se si trovano dollari nel cassetto, euro sul conto, dico, no, porca puttana, avevo quel conto, me l'ho dimenticato, cioè gli euro, no, maledizione, no, via! Fuori dal cazzo, vendo, 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 vendo. Allora, cosa succede? Se abbiamo detto che la bolla scoppia quando si configura una vendita di massa, un fenomeno collettivo che coinvolge tutti quanti e la società, il bitcoin addirittura non è a livello nazionale, ma sopra nazionale, coinvolge tutto il mondo, e tutti si tolgono dei coglioni la carta straccia, la bolla è già scoppiata, la bolla è il dollaro e l'euro, aggrappati fra di loro perché fanno parte del mondo della finanza, e quelli lì, quei tontolone lì, neanche se ne accorgono, per cui il bitcoin, lui è bello lì tranquillo, lui sa che per il momento il fenomeno, la scintilla è appena incominciata, coinvolge lo 0,01 della popolazione, non coinvolge praticamente nessuno, il suo potenziale è altissimo, e là fuori, noi vediamo tutta una massa di gente che sta per entrare, non ci stavano manco dentro tutti, tutti, la massa è già lì, si sta accorgendo, aprono gli occhi e dicono, no cazzo, cioè chiunque si trova, arrivi, cammini per strada, ti trovi 500 euro lì che sull'azio, no porca puttana, 500 euro no, tu prendi, lo corri, via via, me ne devo liberare, prendi bitcoin, è un po' come faccio io, affitto gli appartamenti, se mi danno carta straccia, io chiedo sempre, pagatemi bitcoin, però se mi danno carta straccia, cosa faccio, me ne libero, cioè me la tolgo dai coglioni, è un po' quello che sta succedendo, questo fenomeno, al momento, che è partito esattamente come una scintilla, è appena incominciato, figurati, fra un po' di tempo, quando il togliersi dai coglioni, c'è gente che come me, che va in banca, prestatemi carta straccia, ah sì sì, tipo, adesso nei paesi del, prima era in voga, il prestare alla cazzo i soldi, nei paesi occidentali, adesso nei paesi dell'est Europa, tu va, ti fermano, mi hanno fermato in strada, dai ti facciamo la carta di credit, con cargiback del 3%, mi danno l'opuscolo, prestiamo 15 mila euro, prendi, cercano ormai di prestare soldi, anche gli sconosciuti, persino prestano soldi agli alcolizzati, per comprarsi la vodka, nei presi del, se a me vi prestano carta straccia, cosa faccio io, compro bitcoin, poi, come dovrebbero fare il trader, i trader dovrebbero fare questo ragionamento qua, prendere i soldi dall'investitore, far finta, creargli quel pacchetto, che interessa loro, ti faccio il pacchetto sui tecnologici, il pacchetto, le tigre asiatiche, ti faccio il pacchetto su quello, gli promettono, un investimento, che ti rende un 3-4%, in realtà, il trader dovrebbe prendere quello, far finta di fare il pacchetto, comprare i bitcoin, e dargli, quella piccola percentuale, che ha promesso l'investitore, così, l'investitore è contento, il trader, l'ha babbato, che ci ha fatto il 1000%, gliene dà un 3-3% a quell'altro cretino lì, e con le banche, con i prestiti bisogna fare così, farci prestare carta straccia, tanto oramai, anche loro, presi dal panico, te la danno così, senza garanzia, ti fermano in strada, oh dai, ti diamo 15.000 euro, prendi, prendi, vieni da noi, bisogna prendere, carta straccia, prendere bitcoin, e poi, ridargli, quel, ogni anno, gli dai quel piccolo interesse, quel 2-3%, glieli ridai, e devi risolverla così, per cui, cari ragazzi, il fenomeno del bitcoin, è un fenomeno di relatività, la bolla è scoppiata, abbiamo delle evidenze in questo, perché quando vi è la corsa, in massa, della popolazione, degli investitori, a togliersi dai coglioni, un determinato elemento, perché non ne attribuisce più un valore, e attribuisce valore a un'altra cosa, al bitcoin, vi è una traslazione, dell'immaginario collettivo di valore, dalla moneta fiat, verso la criptovaluta, siccome la collettività, che assegna il valore delle cose, l'oro ha valore, non perché è intrinseco, è la collettività che lo apprezza, e l'immaginario collettivo, della collettività, è attribuito un valore, la stessa cosa succederà adesso, scoppia la bolla, vendono tutti, di la sale, e di conseguenza, il bitcoin, acquisterà grande forza, grande potenza, a discapito, il valore non si crea da nulla, viene traslato, perché quando noi abbiamo un acquisto, abbiamo anche dall'altra parte una vendita, perché se tu acquisti bitcoin, vendi dollari, per cui quando tu vendi, vendere, 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 vuol dire togliere valore, vendere, 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 vuol dire addirittura bolla, e dall'altro lato, invece, abbiamo un acquisto, un acquisto di valore, è un valore che abbiamo, un valore dell'immaginario collettivo, delle popolazioni, che viene traslato, su un altro elemento, è un fenomeno, che i banchieri, il conoscono questi meccanismi, sono loro i burattinai, che prendono per il culo, i cosiddetti trader, i maghi della finanza, che sono lì, che disegnano grafici, e tutte queste minchiate qua, anche mettendoci dentro, anche degli schemi matematici, io, ce l'ho tanto con i trader, ma io, ero trader prima di loro, io quando avevo 16-17 anni, che ancora non c'era internet, mi interfacciavo, e cercavo di capire i dati, di valutazione delle borse, il mio limite, per fare i cosiddetti algo trader, quando ancora, in borsa, quelli lì compravano, le toro, con i segni con le mani, io il mio limite, lo avevo, che poi comunque, il messaggio, lo dovevo dare, all'operatore di borsa, e non potevo fare, l'operazione, dando l'ordine, in maniera informatica, ma io già quelle cose, quelle cazzatine, che io ce l'ho tanto lì, ce le ho con i conti trader, quelle lì, io quelle cazzatine lì, le facevo quando ero ragazzino, che avevo il Commodore 64, quelle cose lì, per cui voi, che vi credete, tanti esperti, e compagnia bella, voi non vi siete aggiornati, l'85% dei trader, è in perdita, e non lo ammettono, perché nei confronti, dei loro clienti, che danni soldi, non sarebbe giustificabile, e a vincere, sono i pesci grossi, che fanno aggiottaggio in continuo, con i loro media, che sono i trader, quelli più grossi, che hanno possibilità, con i loro giornali, a livello mondiale, l'economy, sul Financial Times, anche sulle 24 ore, quando si mettono d'intesa, in concertazione, scrivono tutti articoli, sulla stessa falsariga, in modo simultaneo, e determinano i mercati, quindi, è tutto un fenomeno, di relatività, il bitcoin, non è che acquista, valore dal nulla, o che sia la gallina, dalle uova d'oro, è semplicemente, che stiamo assistendo, al crollo di una bolla, la bolla delle monete fiat, il pesce grosso, che ne è consapevo, è allarmato, sta andando via di matto, per lui, che è sempre uscito, col suo aggiottaggio, a manipolizzare, l'immaginario collettivo, e la percezione, di questi quattro deficienti, che operano in borsa, e sono sempre, soggiogati da questi qua, è impazzito, perché dice, cazzo, adesso sono due giorni, che le cannoniere, stanno sparando colpi, all'Africa, è una bolla, statene lontano, vedi lì i banchieri, quelli non sono soldi veri, tornati indietro, ve li do io i soldi, a me mi fermano in strada, a riga, tutti facciamo il credito, la carta di prendi, prendi, ve li diamo noi i soldi, il bitcoin, sono disperati, quando si arriva a queste gesta qua, vuol dire, sono le gesta fatte dall'esplorazione, quando i banchieri, si mettono a gridare le masse, state lontano quelle merda, dei soldi veri sono i miei, che stampo io, le mie rotative stampano i soldi veri, quello è tutto la bolla, la bolla, la bolla, è un'azione terroristica, ma non sta funzionando, è questo che preoccupa il sistema finanziario, il sistema finanziario non è preoccupato, come vi fa credere sui giornali, che la gente sta investendo in una bolla scoppia, il sistema finanziario è preoccupato, perché loro stanno scoppiando come bolla, e questo è già incominciato, basta ragionare in termini un po' più intelligenti sulla relatività, sposti l'angolo di osservazione, e già vedi lo scenario che è già incominciato, già sta succedendo, la massa con i miei giochetti che faccio di intelligenza, e compagni belle, non hanno grandi capacità per riuscire a fare questo tipo di osservazioni, tanti sono lì, non l'hanno ancora capito, io ho pazienza, so che nel gruppo faccio il video, spiego, domani tornerà un altro, dirà bitcoin bolla, ma allora la gallina dalle uova d'oro, e dopo domani succederà ancora, fra un anno saremo ancora così, ormai sono otto anni che arrivano, ma anni fa arrivavano dentro anche i trader, ecco Andrea, visto che sei tutto te, faccio lo screenshot delle cazzate che stai dicendo, poi dopo quando vedrai che rimarrai scottato, che rimarrai con il ciorino in maggio, lo tiro fuori e ti sputtano, io di questi screenshot qua ne ho riempito un hard disk, quanti cazzo ne ho fatti di screenshot con le cazzate che avete detto voi, io ci ho sempre azzeccato, ma non solamente sul fatto del bitcoin, da tutto quello che ho fatto io nella mia vita, sono stato un precursore, anche di cose innovative e tecnologiche, secondo me quando c'è gente che va a perdere sistematicamente in tutte le bolle del mercato finanziario, fino ad arrivare a comprarsi le parmalat e investire e mettere i suoi risparmi nel monte dei paschi, o in banca Etruria, poi mi vengono a me a fare la romanzina e cercare di discutere con me con questa cosa qui della bolla del bitcoin, cioè la cosa non funziona, per cui quello che vi volevo dire ragazzi, state tranquilli, il fiume scorrerà lungo il suo albero naturale, la storia seguirà il suo corso, ed è questo quello che sta succedendo, non esiste alcuna bolla del bitcoin, il bitcoin continuerà a crescere, fino a qua e non avrà saturato il numero potenziale di utilizzatori a livello mondiale, adesso siamo a una percentuale molto piccola, siamo lontanissimi dal livello della saturazione, se l'era, se l'esserà, poi come abbiamo visto ogni tanto c'è qualche cannoniera che spara, cerca di fare aggiottaggio da quelli della finanza che gridano, tornati indietro brutti bastardi, i soldi sono non credenti a quella roba lì, allora magari un po' scende, scenderà anche quel 20%, dopo due giorni ritorna a come era prima, e il fiume seguirà sempre il suo corso, fino a che andrà ad adagiarsi nel suo albero naturale, a quel punto lì i primi che avranno investito in bitcoin, calcolando il loro investimento in bitcoin, sarà invariato, se compro 100 bitcoin, anche fra 50 anni saranno 100 bitcoin, calcolandoli col sistema della relatività, il valore di quei bitcoin in carta straccia, ovvero in dollari, sembrerà che hai fatto un guadagno enorme, in realtà è stato il dollaro a essere scoppiato in un'immensa bolla, è la carta straccia, che la collettività non assegna più il valore a questa roba qui, ha traslato l'immaginario collettivo del valore di una cosa su un altro bene, esattamente come succedete quando il commercio che avveniva fatto con le conchigliette è stato sostituito da quello fatto con tondini di metallo, argente e oro, cioè è stato un cambio epocale, la gente ha smesso di dare valore alle conchigliette, l'ha segnato all'argente oro, perché le conchigliette erano troppo facili da trovare sulla spiaggia, mentre invece l'argente oro bisognava faticare un po' di più, quindi cari ragazzi, spiegate un po' questo sistema, credo di aver aperto la mente a tantissima gente, so che tanti mi seguono, io addirittura con mio grande stupore, il mio primo video che ho fatto su Bitcoin, che ho pubblicato nella mia pagina di Facebook in un'ora, aveva fatto 6.000 visualizzazioni, non mi immaginavo nemmeno io di avere così, un seguito così enorme, comunque state tranquilli e mi raccomando, non investite più di quanto siate disposti a perdere, quindi se volete investire, tenere in euro, in dollari in banca, fate pure, però sappiamo, voi volete tenere un investimento, comprarvi 30.000 euro, tenervi sul conto bancario, fate pure, siete liberi a farli, però se poi questi risparmi si polverizzano, che fra qualche anno varranno 0,1 Bitcoin, sono cazzi vostri, l'importante è sempre di rischiare quello che siate disposti a perdere. ciao a tutti e alla prossima.